Il progetto ASEE era un bel progetto, mirava a far rientrare nell'azienda speciale ecologica oltre a Manfredonia tutti gli altri comuni dell'Aro Foggia 1, ovvero di buona parte del Gargano. Vieste ci stava credendo, Zapponeta pure, ma dopo poco più di due anni si avviesse che Zapponeta decidono di interrompere il matrimonio con ASEE. Perché? Ma questo discorso di uscire fuori dall'ASEE si rende necessario per una questione relativa all'impossibilità da parte di ASEE di diventare gestore unico dell'Aro Foggia 1. Perché gli altri comuni non vogliono entrare in ASEE e quindi l'affidamento diretto della gestione dell'Aro Foggia 1 non si può concretizzare. Quindi per il Comune di Vieste diventa inutile rimanere in ASEE perché oggettivamente bisognerà fare obbligatoriamente una gara e a questa gara, che voglio dire anche ASEE potrà partecipare, il Comune di Vieste non avrebbe nessun tipo di giovamento a stare dentro o fuori dall'ASEE. Qualche sono le motivazioni ufficiali? Qualcuno dice che c'è dell'altro. Altre motivazioni? Io, come ho detto anche in Consiglio Comunale, sicuramente c'è una questione legata alla governance di ASEE. ASEE, da quando sto io, sono quasi due anni e mezzo, ha avuto circa 4-5 amministratori. Quindi chiaramente la nomina di un amministratore è una nomina che decide il socio di maggioranza, che è il Comune di Manfredonia e quindi molto spesso è legata più che aspetti tecnici a questioni di tipo politico. E quindi io ritengo che rimanere, diciamo, influenzare questa carica lasciandola esclusivamente alla politica può diventare pericolosa. Pericolosa forse no, però sicuramente non genera stabilità nel servizio perché ogni amministratore giustamente ha la propria opinione sulla gestione del servizio e quindi bisogna poi ricominciare da capo ogni 4-5 mesi. Sindaco, perché ha deciso di abbandonare l'ASEE? Perché non la riteniamo idonea a gestire il servizio locale. Quindi non era soddisfatto di come gestivano la raccolta dei rifiuti? No, nella modalità di organizzazione non sono contento, non siamo stati contenti della gestione. Ma cosa non funzionava visto che non è solo il Comune di Zapponeta, anche Vieste, pare che voglia abbandonare l'ASEE? Non si può cambiare un direttore ogni 4 mesi.